Non so cosa ne pensiate voi ragazzi, ma io ho notato diversi errori gravi. Che ne dici se facciamo che il passato è acqua passata? Io ho fatto cose, tu hai fatto cose, ci sono brave persone da ambo le parti. Facciamo così, ripassiamo la mia scena preferita. Che ne dite? Rapirei mille bambini pur di non far morire questa zienda! Cosa? Rapirei mille bambini pur di non far morire questa zienda! Rapirei mille bambini pur di non far morire questa zienda! D'accordo, lo prendo io. È così allora? Ok, non siamo amici. Ciao, odioso! Fermi dove siete, numero uno vuole parlare con voi. Portatelo via! Ora ci daranno una giornata di libertà! Idiota! Questi qui chiuderanno la fabbrica!